Sto facendo, stai facendo, sei tranquillo Ma voi siete fuori, voi siete fuori, capito? Ma è normale che si metta a fare il cinema così? Ma è normale che hai toccato una migliorezza È normale che hai toccato una migliorezza È una ragazza Che c'è come c'è tanto? Oh, sono ragazzi, sono ragazzi, svegliati Calma, eh, calma Sto abuso di potere che fanno, non lo so Io spingo non a ragazzi, dei ragazzini Guarda che ho 15 anni Non me ne frega un cazzo Ma ti svegli, ma svegli Sono Aldi Oh, non devi toccarla Non ti devi toccare, non mi devi Lo faresti a tuo figlio questa cosa qua? Penso a mia madre e mio padre che pensano che tu mi hai spinto davanti agli occhi di tutti Eh, sono cazziposti, sono cazziposti Io ce l'ho